Coronavirus nel fine settimana, tamponi rapidi in 30 drive-in allestiti nelle città siciliane. L'iniziativa, promossa dalla regione siciliana con le ASP e in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali, è rivolta in questa fase al mondo della scuola. Dopo il PD, anche il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni dell'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza. Trapani, neonato ucciso lanciandolo dalla finestra, arrestata alla madre minorenne, la polizia sta valutando anche le posizioni della madre della ragazza e della collaboratrice domestica. Sequestrati a un pluripregiudicato, una villa con piscina, due appartamenti, due conti correnti e tre autovetture, il provvedimento del Tribunale di Palermo è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo. Pasqualino Monti, presidente dell'autorità del sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, una risorsa da non perdere per il bene della Sicilia, l'appello della Will Transporti, della Filt CGL e della Filt CISD. Ben trovati i gentili telespettatori a questa nuova edizione con l'informazione di Media News, oggi sabato 7 novembre, come avete sentito dai titoli parliamo di coronavirus, perché nel fine settimana tamponi, 30 drive-in allestiti in tutta la Sicilia, sentiamo. Tamponi rapidi nei drive-in delle maggiori città siciliane. Dopo l'esperienza negli arcipelaghi minori e alla Fira del Mediterraneo a Palermo, prosegue la campagna attiva di monitoraggio del coronavirus sulla popolazione della Sicilia su precisi target, così come programmato all'assessorato regionale alla salute su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico. L'iniziativa promossa dalla Regione, con le Aspe, in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali, è ancora rivolta in questa fase al mondo della scuola. Così oggi e domani, in oltre 20 centri, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, verranno allestiti circa 30 drive-in, con percorsi dedicati in cui si procederà al prelievo del campione mediante test rapido, che in caso di positività verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma, così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. In linea con quanto organizzato a Palermo, grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, con i presidi e i maggiori istituti scolastici, nel fine settimana personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie potranno avere accesso ai drive-in allestiti nei siti individuati dalle amministrazioni locali con le Aspe. Nei prossimi giorni si aggiungeranno altre città e nuovi drive-in, saranno presentate altre modalità di accesso alla campagna per raggiungere un campione più vasto. E l'Aspe di Palermo ha l'attività in corso alla Fiera del Mediterraneo, a fianco a uno screening di popolazione a Monreale. Oggi e domani, nei locali dell'ex mobilificio Mulè, in via Circonvallazione, sarà possibile effettuare il tampone rapido. In caso di positività, così come previsto alle linee guida, la persona sarà subito sottoposta al personale dell'Asp al tampone molecolare. L'adesione alla campagna è su base volontaria. Dopo il PD, anche il Movimento 5 Stelle vuole le dimissioni dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, il ragionamento politico in seguito alle criticità sull'assegnare l'arancione alla nostra regione. Sentiamo. Anche il Movimento 5 Stelle contro l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, dopo l'attacco del PD, anche i pentastellati all'Assemblea regionale siciliana, chiedono le dimissioni dell'assessore in seguito alla grave criticità emersa nella segnazione dell'area arancione alla Sicilia. La misura è abbondantemente colma. Razza lascia il posto a una persona più capace per evitare guai peggiori alla Sicilia. Col PD e con tutti i deputati degli altri schieramenti che vorranno sottoscriverla, presenteremo una mozione di censura all'assessore alla salute, che si è rivelato abbondantemente non all'altezza della situazione. Affermano il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Giorgio Pasqua, insieme agli altri componenti 5 Stelle della Commissione Salute di Palazzo ai Normanni, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca. Abbiamo sempre tenuto, dicono i deputati, un atteggiamento ispirato alla massima collaborazione istituzionale, consapevoli che solo con l'aiuto di tutti si possono superare le situazioni più difficili e le emergenze. Purtroppo è servito a poco. L'assessore non ha mai inteso aprire a un serio confronto né con la Commissione della Salute né con l'Aula e adesso la situazione sta precipitando, anche per colpe certamente ascrivibili all'assessorata alla salute. Al netto e le dichiarazioni di Razza e Musumeci, la zona arancione è figlia legittima delle inadempienze della cattiva gestione del governo regionale e non certo di chi sa quale oscure macchinazioni di stampo politico. Dopo la prima ondata della pandemia, l'esecutivo Musumeci aveva tutto il tempo per adempiere alle prescrizioni di Roma, che risalgono addirittura ad aprile, ma nulla o quasi è stato fatto, trasformando la Sicilia in una regione inaffidabile dal punto di vista sanitario. Numerosissime declatanti sono state le deficienze, come il mancato aumento dei posti letto, delle terapie intensive e subintensive, il tracciamento a dir poco fallimentare, il sicuro numero di tamponi effettuati, la tardiva comunicazione dei dati a Roma, la scriteriata gestione della medicina del territorio e delle USCA. E questo solo per citare le carenze più macroscopiche. Non possiamo concludere nei deputati 5 Stelle, assistere inerti allo sfacelo. Ci sono ancora i margini per invertire la rotta di questa nava alla deriva, ma si deve farlo subito, cominciando dalla sostituzione di chi è al timone. Già sull'argomento era arrivato il durissimo attacco di Giuseppe Lupo, cavo gruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, che sull'assessore ha dichiarato. Anche Razza, da buon discepolo Musumeci, si è iscritto al club dello scaricabarile. La Sicilia era arancione, la colpa è di qualcun altro, ricordiamo a Razza, che è lui l'assessore alla salute, è lui che nei mesi scorsi avrebbe dovuto riorganizzare la rete sanitaria ospedaliera in vista della seconda ondata Covid-19. E soprattutto è lui che anche in queste ore, invece di lamentarsi e gridare a un fantomatico complotto politico, dovrebbe individuare e applicare una serie di misure urgenti per far uscire la Sicilia dall'area arancione. Rischia di diventare un focolaio di Covid, la cittadella giudiziaria a Palermo a lanciare l'allarme, proprio la Will Pubblica Amministrazione. Sentiamo. La cittadella giudiziaria di Palermo come vero e proprio focolaio. Questo l'allarme lanciato da Alfonso Farruggia, segretario generale della Will Pubblica Amministrazione Sicilia, che denuncia un trend di crescente positività al Covid. Tra dipendenti, avvocati e magistrati, nella cittadella non si starebbero prendendo concrete misure di contenimento e nessuna presa di posizione da parte dell'amministrazione giudiziaria. Le solite routine non bastano, dice Farruggia. Ho partecipato a tutti gli incontri online indetti dall'amministrazione, continuando a sollecitare l'immediata concretizzazione di interventi a tutela della salute pubblica. Tuttavia, il solo argomento che ha registrato interesse da parte dei vertici riguarda lo smart working. Una tematica importante, ma che non basta per continuare a garantire servizi alla collettività e tutelare al contempo l'incolumità dei lavoratori. Sembra anche che le percentuali di lavoratori in smart working non siano sufficienti. Siamo consapevoli che esiste un deficit alla base in termini di direttive e che l'amministrazione del Tribunale non può arbitrariamente modificare la flessibilità delle attività da svolgere, sia in presenza che da remoto. In poche parole, esistono paletti che possono essere rimossi soltanto dall'amministrazione centrale. In più non sarebbe stata applicata alcuna norma a tutela dei lavoratori fragili affetti da problematiche di salute più vulnerabili al rischio contagio e di tutti quelli che, anche se in salute, annoverano all'interno dei propri nuclei familiari soggetti con alcune patologie. Oltre ad essere saltoriamente costretti al lavoro in presenza, non c'è stata ancora la possibilità di effettuare i tamponi per coloro che sono entrati in contatto con un soggetto risultato positivo, richiesti all'aspeta la stessa amministrazione. Malgrado, sottolinea, si tratti dell'unico strumento efficace a bloccare l'avanzata del virus. Ciò che la Wilpa Sicilia contesta però ai vertici giudiziari di Palermo conclude è di non sollecitare con forza al Ministero di competenza un cambio di rotta che si traduca in precise deroghe relative alle attività in presenza, anche e soprattutto alla luce dell'inquadramento del territorio regionale quale zona arancione e pertanto a rischio pandemico medio-alto. Ieri sera a Palermo manifestazione contro le decisioni del governo di Conte di assegnare l'arancione alla nostra regione. Si parte da Piazza Dipendenza per arrivare poi in via regione siciliana e bloccare il traffico per una decina di minuti. Fondamentalmente oggi non c'è un organizzatore di questa manifestazione. Perché? Perché il problema nasce dal fatto che noi chiediamo fermamente, io in prima persona, ci scorlando fondatore e presidente del comitato Gli Angeli per la Salvezza, un comitato per la tutela dei diritti umani. Noi abbiamo solo chiesto al presidente di poter avere udienza. Perché? Perché noi capiamo le difficoltà che lui in prima persona può avere. Ma siccome la Sicilia è stata dichiarata zona arancione non per un elevato numero di contagi, ma per un'insufficienza di posti eventuali ospedalieri e una carenza di strutture sanitarie. Allora si è detto di poter verificare la vericità dei dati e soprattutto che dal momento in cui la presidenza della regione non può garantire, perché abbiamo capito che ormai lo Stato è al collasso, un supporto economico alle persone, noi che non siamo negazionisti, che rispettiamo le regole, le mascherine, tutto quello che sia il distanziamento, perché è normale, va fatto coscienziosamente da un bravo padre di famiglia. Però è una persona che ha adeguato la propria attività, spendendo di tasca proprio i plexiglass, le conoline genizzanti e via. Non si può andare a dire oggi chiudo di nuovo e non ti do un supporto economico. Allora cos'è il problema? Dal momento che il problema è la mancanza di posti, noi sappiamo che a Palermo ci sono diverse strutture ospedaliere che ahimè, di certo non per il presidente Musumeci, ma per il suo predecessore, i tagli alla sanità e tutto quello che c'è stato, noi oggi ci troviamo ad essere chiusi in ristrettezza per un'emergenza che in fin dei conti non sarebbe così emergente. Ci sono fatti loro portavoce di dire, noi personalmente andiamo nelle strutture chiuse, le andiamo a riammodernare noi, chi si è offerto di tinteggiare, chi per le pulizie, chi di rifare gli impianti elettrici, per dire essere pronti giustamente a un'eventuale, quello che tutti scongiuriamo, a un'eventuale esplosione del virus ancora come prima, che nessuno vorrà. Ma a quel punto, qualora la situazione dovesse degenerare, coscienziosamente saremo i primi a ricordere a un lockdown totale di nuovo. Rosa Maria Alizio, mamma di Desiree, una bambina affetta da tetraparesi spastica, che non può frequentare la scuola a causa della mancanza di assistenti igienico-sanitari. Dopo i numerosi appelli e le proteste, ha denunciato il fatto alla procura di Caltanissetta. Ad oggi niente è cambiato, quindi sono arrivata a una decisione. Ho denunciato tutta questa situazione alla procura della Repubblica di Caltanissetta e chiedo ad alta voce, a tutti i genitori dei ragazzi disabili, di denunciare, perché bisogna vedere chi ha fatto il danno, chi ha permesso questo schifo, perché lo chiamo schifo, dei nostri figli e di tutti i ragazzi disabili, a rimanere a casa. Quindi denunciamo, non avete paura, denunciamo e troviamo il responsabile. Dopodiché ho fatto un'email alla dirigente, dove chiedo, visto il decreto Conte, e visto la nota di Suraniti, mandate a tutti gli istituti, dove chiedo che mia figlia faccia la didattica in presenza. in presenza, perché? Perché è scritto, sia nel decreto che nella nota di Suraniti, che i dirigenti debbano comunicare agli enti preposti il numero di assistenti genico personali che servono per fare in modo che i nostri figli tornino a scuola, per così da non negargli nessun diritto. Ben trovati alla seconda parte del nostro notiziario. Continuiamo con le informazioni. A Trapani, un neonato ucciso, lanciato dalla finestra, arrestata la madre minorenne. La polizia sta valutando le posizioni della madre della ragazza e della collaboratrice domestica che erano presenti durante i fatti. Dopo un lungo interrogatore è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario la ragazza di 17 anni che a Trapani ha ucciso il figlio neonato lanciandolo dalla finestra della sua abitazione. La minorenne si trova ricoverata nel reparto di ginecologia dell'ospedale Sant'Antonino Abate di Trapani. La polizia sta valutando anche le posizioni della madre della ragazza e della collaboratrice domestica che si trovavano in casa al momento dei fatti. Le due donne hanno sostenuto di non essersi accorte del parto della soppressione del neonato. Il cadavere è stato ritrovato ieri alla periferia di Trapani. Sul luogo sono subito giunti gli agenti del commissariato di polizia e il reparto della scientifica. A segnalarlo è stato un abitante di un complesso residenziale all'interno del quale è stato trovato il piccolo senza vita. Già ai primi accertamenti il neonato su cui sono stati rilevati segni di violenza è stato ritrovato con ancora il cordone umbilicale attaccato. Il neonato presentava il cranio fracassato ed è stato ritrovato nel cortile di un condominio in via Francesco De Stefano. Dopo qualche ora la polizia ha identificato la madre. Si tratta di una ragazza minorenne che abita nello stesso edificio dove è avvenuto il ritrovamento. Gli investigatori coordinati al procuratore aggiunto Maurizio Agnello hanno subito pensato che il piccolo potesse essere stato lanciato da una finestra. Sequestrati ad un pluri pregiudicato una villa con piscina due appartamenti due conti correnti e tre autovetture il provvedimento del Tribunale di Palermo è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo. Il Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione su richiesta della locale Procura della Repubblica ha emesso un provvedimento di sequestro di immobili rapporti bancari autovetture nei confronti di Lausgi-Chemes per un valore stimato di circa 700.000 euro eseguito dai finanzieri al Comando Provinciale di Palermo. Lausgi-Chemes è un pluri pregiudicato resosi responsabile di numerosi gravi reati fra i quali spicca l'Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti oltre al furto aggravato commesso in concorso con altri nel dicembre 2006 per il quale è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e la ricettazione commessa da ottobre 2006 a gennaio 2007 condannato alla pena di mesi 10 di reclusione con pena sospesa. Le indagini dei finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia Economico Finanziale di Palermo condotte nell'ambito dell'operazione Railway dimostrarono il ruolo di vertice dell'uomo detto Gabriele o il Turco di un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel quartiere palermitano ZN2 tra giugno 2011 e marzo 2016 per tali fatti ha riportato una condanna in primo grado alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione attualmente il Lausgi è tenuto agli arresti domiciliari dopo aver trascosto due anni in carcere per i reati di produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti commesso nel settembre 2016 e violenza sessuale commessa nel settembre 2018 per i quali è in attesa di giudizio la procura della Repubblica di Palermo ha tenuto conto di tali condotte ha pertanto delegato a certamenti economici patrimoniali agli specialisti del GICO del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e la Guardia di Finanza che hanno evidenziato una significativa sproporzione pari a circa 580.000 euro tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo sulla scorta di tali accertamenti il Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione ha quindi ritenuto che i beni oggetti dell'odierno sequestro una villa con piscina due appartamenti siti in carini due rapporti finanziari e tre autovetture fossero in concreto nella disponibilità del proposto e costituissero il reimpiego di guadagni provenienti dalle attività illecite Pasqualino Monti presidente dell'autorità del sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale è una risorsa da non perdere per la nostra regione l'appello della Will Transport i Filt CGL della FIT CISL in vista di una probabile rotazione Pasqualino Monti presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale una risorsa da non perdere per il bene dell'isola l'appello è diffuso dai segretari generali in Sicilia della Will Transport della Filt CGL e della FIT CISL che iniziano a spiegare siamo dell'idea che quando un dirigente fa bene il suo lavoro ricoprendo un ruolo attivo e fondamentale nella valorizzazione delle infrastrutture necessarie e strategiche per le città di Palermo Termini Trapani e Porta Empedocle debba restare al suo posto per portare avanti i progetti avviati è il caso di Pasqualino Monti presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale che ha dato un forte slancio al rilancio dell'area portuale di Palermo Termini Merese Trapani e Porta Empedocle progettando opere e infrastrutture per 491,8 milioni di cui 291,8 già appaltati altri 200 già finanziati incalzano i segretari generali della Filt CGL Franco Spanò della Filt CISL Dionisio Giordano e Guiltrasporti Agostino Falanga che sollecinano l'intervento presto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Presidente della Regione Nello Musumeci e dei Sindaci dei Comuni coinvolti sul possibile cambio al vertice dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale si avvicina il cambio al vertice di tutte le autorità d'Italia sappiamo che su Monti ci sono richieste della Regione Campania riteniamo che la scelta migliore che si possa fare sia quella di non interrompere questo processo virtuoso che sta solo portando benefici a rilancio dei porti e dei suoi livelli occupazionali siamo stati fautori continuo ai tre segretari della sottoscrizione di un accordo con la stessa autorità di sistema portuale che ha permesso la stabilizzazione di 194 lavoratori evidenziando la grande sensibilità e attenzione che il Presidente Monti ha posto sui temi della crescita occupazionale chiediamo quindi alle istituzioni locali tutte di intervenire in tal senso affinché il Presidente Monti rimanga al suo posto bisogna evitare che la Sicilia sia privata di un dirigente pubblico che con il suo operato sta contribuendo attivamente allo sviluppo dell'isola infine aggiunge e conclude Agostino Falanga segretario generale Will Transporti Sicilia l'auspicio è che Pasqualino Monti non ci sia sottratto da chi visti i grandi risultati prodotti a Palermo aspiri a freggiarsi delle sue capacità di manager a tutto tondo un uomo che alla sua professionalità aggiunge una grande umanità evidenziata nel senso del dovere e del rispetto per il lavoro e i lavoratori un pregio di pochi manager più attenti al profitto che al resto anche per questo io e i lavoratori che rappresento a livello regionale vogliamo che il Presidente Monti resti qui a Palermo abbiamo bisogno ancora per molto del manager e ancora di più dell'uomo prende il via da Roma il progetto formativo culturale Ricercatori dell'Alba a firma del Parlamento della Legalità Internazionale sentiamo le interviste del Presidente e del Vice Presidente Niccolo Mannino e Salvatore Sardisco Siamo qui a Roma oggi per continuare quel progetto Ricercatori dell'Alba e siamo qui con tutte quelle misure che stiamo intraprendendo per partecipare a una piccola riunione per portare avanti questi progetti che sono quelli culturali per dire ai giovani che il Parlamento della Legalità Internazionale non si ferma e non si è mai fermato per portare avanti i valori della vita voi siete il nostro obiettivo e voi siete i nostri giovani che porteranno avanti i valori della vita proposti dal Parlamento della Legalità nella loro cultura quotidiana Torna ancora una volta un progetto formativo culturale molto singolare e molto bello il tema è Ricercatori dell'Alba ogni anno la nostra convocazione è stata sempre a Montecitorio anche quest'anno siamo a Roma anche quest'anno come vedete dallo sfondo della Basilica di San Pietro noi siamo arrivati nella capitale per proporre ancora una volta un cammino culturale di grande respiro ideale e ricco di propositivi e messaggi che cantano la bellezza della vita Ricercatori dell'Alba perché ricercatori dell'Alba perché come ebbe a dire un mio giovane alunno del Ghana non esistono stranieri in un mondo dove tutti siamo fratelli come dice l'enciclica di Papa Francesco siamo tutti esploratori in cerca di terreni fertili dove piantare i nostri fiori lo dice un ragazzo del Ghana del Parlamento della Legalità Internazionale e noi oggi qui da Roma proponiamo un messaggio di speranza di gioia e di amore sì c'è un virus chiamato Covid ma c'è anche un virus che si chiama terrorismo psicologico c'è un virus che si chiama angoscia depressione cattiveria allora noi vorremmo lanciare dalla capitale un messaggio di speranza di bellezza e di vita il Parlamento della Legalità Internazionale non ci sta al massacro non ci sta nella distruzione totale di quei sani principi che sono respirare aria pulita noi proporremo ancora una volta questo progetto lo stiamo inviando nelle scuole abbiamo un grande consenso da parte del mondo istituzionale ecclesiale e anche dai giornalisti e colgo l'occasione per ringraziare il giornalista Raffaele Luiz dell'Osservatore Romano per averci dato grande spazio in quello che è il giornale del Papa perché siamo certi che il Parlamento della Legalità con le sue ambasciate con i suoi mezzi comunicativi possa portare ancora una volta nel cuore anche di voi che ci ascoltate un messaggio di speranza e di gioia Parte la riqualificazione del lungomare di Terrasini dedicato a Peppino Impastato grazie al Dipartimento del Turismo e degli interventi previsti per il sostegno degli investimenti ai comuni Al via la riqualificazione del lungomare Peppino Impastato di Terrasini in provincia di Palermo grazie ad un finanziamento di quasi 1,5 milioni di euro stanziato dal governo regionale siciliano Arrivata dunque l'approvazione da parte del Dipartimento del Turismo ad uno degli interventi previsti per il sostegno degli investimenti nei comuni e che ha attinto le risorse dal programma operativo complementare 2014-2020 questa volta tocca al comune di Terrasini che in attesa del progetto esecutivo ha già presentato il progetto definitivo dell'operazione Giosuè Maniaci sindaco di Terrasini ringrazia l'assessorato al turismo in questi anni abbiamo sempre rivolto massima attenzione a questo luogo e il finanziamento ci rende felici perché riusciremo a sistemare definitivamente un tratto di costa meraviglioso è un iter iniziato già negli anni scorsi che stiamo portando a termine e che speriamo veda la luce entro il 2021 una bellissima iniziativa un bellissimo finanziamento che voglio condividere con la cittadinanza la scogliera del lungomare dedicata all'attivista antimafia ucciso nel 78 verrà riqualificata attraverso diversi interventi di manutenzione dai marciapiedi agli impianti di illuminazione pubblica dalla pavimentazione all'abbattimento delle barriere architettoniche dalla nuova segnaletica a pista ciclabile e zona attrezzata per gli allenamenti sportivi con questo stanziamento il governo regionale testimonia ancora una volta la grande attenzione nei confronti delle istanze provenienti dai comuni dell'isola detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci la riqualificazione del lungomare di Terrasini è un'opera tanto attesa e che mira a rendere ancora più attraente per cittadini e turisti uno scenario naturalistico già di per sé straordinario E allora grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima edizione dell'informazione di Media News Grazie a tutti Grazie a tutti